Una rete omogenea di piste ciclabili con una precisa identità che colleghi tutti i comuni del territorio cremasco. È quanto vuole realizzare l'area omogenea cremasca attraverso Consorzio.it, società in house dei comuni cremaschi e sobraccio operativo. Il progetto è a buon punto ed il territorio è unito. Consorzio.it ha infatti messo a disposizione dei fondi per la progettazione esecutiva dei tratti mancanti, progettazioni necessarie per poter partecipare a bandi ed intercettare i finanziamenti. Quindi entro la fine del 2024 Consorzio.it intende avere tutti i progetti di fattibilità tecnico-economica e poi consegnarli ai comuni, al fine poi di poterli utilizzare per ottenere i finanziamenti pubblici, sia regionali che anche quelli nazionali, al fine di andare a ricongiungere le tratte già esistenti. Oltre allo sviluppo delle reti ciclabili che uniscono tutto il territorio cremasco, c'è anche l'intenzione di caratterizzarle secondo una precisa identità. L'ambizione, una volta reso omogeneo e coordinato il reticolo cremasco, è collegarlo alle ciclovie già esistenti e al mondo del cicloturismo provinciale lombardo. Possiamo anche aggiungere ora che c'è comunque un progetto pilota per quanto riguarda andare a caratterizzare le piste ciclabili del territorio, quindi cartelli ad hoc, segnalitiche ad hoc, colori ad hoc. Al momento probabilmente il progetto pilota potrebbe essere la tratta crema e cremosano. Stiamo interlocuendo con i due enti appunto al fine di poi emettere a terra. Siamo ancora in fase embrionale, però comunque diciamo che comunque in via e di sviluppo c'è questa anche possibilità.